Siepi sempreverdi e arbusti a fiora appartenenti al più tipico repertorio botanico del lago di Como. Camele, azalee e rose rampicanti distribuite su tronchi delle palme esistenti. E poi il nuovo infopoint turistico. Del progetto presentato a febbraio dall'amministrazione comunale non c'è ancora traccia in piazza Gobetti a Como, che si sarebbe dovuta trasformare entro maggio in un giardino colorato nel cuore della città. I lavori al verde e quelli per il nuovo infopoint turistico che andrà a sostituire quello del broletto non sono partiti e l'inaugurazione è stata spostata a fine giugno. L'intervento al verde partirà breve mentre stiamo adeguando la porta del nuovo ufficio turistico per omologarlo alla normativa relativa ai disabili, spiega Marco Galli, assessore parchi e giardini del comune di Como. Intanto lo spazio che a breve dovrà diventare la vetrina promozionale del territorio per i turisti in arrivo in città e sull'intero lago necessita ancora di maggior decoro. Bottiglie, cartacce e rifiuti di ogni genere vengono abbandonati mentre si attende che l'intervento promesso possa cambiare per sempre il volto di piazza Gobetti.